Ciao a tutti ragazzi e bentornati sul canale, io sono Mari ed oggi voglio fare con voi un video unboxing molto speciale perché un'azienda mi ha mandato un pacco del quale vi parlerò subito dopo la sigla Eccomi qua ragazzi, quindi mi è arrivato questo pacco pieno, zeppo, so che me ne deve arrivare anche un altro di prodotti naturali, prodotti da erboristeria, eccoli qua, ci sono degli integratori, degli integratori alimentari e non solo vi sto parlando di, eccoli qua, vediamo un po' che cosa ho trovato dentro questo pacco Allora, eccomi qua, questa è una marca che io ancora sinceramente non conoscevo, Sakai sono prodotti completamente naturali, abbiamo qua Garzini a Cambogia, della quale vi avevo già parlato in un video unboxing un po' di tempo fa se non mi sbaglio, queste pillole compresse insomma, sono un integratore alimentare veramente ottimo servono per mantenere la linea, per aiutare anche a perdere peso in questo momento mi saranno molto ma molto utili, infatti le utilizzerò sicuramente si consiglia l'assunzione di 6 compresse al giorno, salvo diversa prescrizione 2 compresse e mezz'ora prima dei 3 pasti principali colazione, pranzo, cena, accompagnandole con un bicchiere d'acqua quindi io queste qua, le utilizzerò molto sinceramente le utilizzerò veramente, grazie veramente a questa azienda che mi ha mandato questi prodotti le utilizzerò veramente prima dei pasti, vi farò sapere perché comunque sarà un integratore alimentare integrato a tutto ciò che sto prendendo in questo periodo durante la mia dieta della quale vi parlerò un po' più avanti poi abbiamo qua piperine, piperine e peperoncino praticamente pimienta piccolinato de cromo, vediamo qua se vi dico un po', c'è scritto anche, abbiamo anche la carta in italiano gli ingredienti, vediamo un po' se mette a fuoco, un po' difficile comunque ci sono le indicazioni in italiano, apro un attimino questo per farvi capire e per capire anche io, eccola qua sono delle capsule, visto così e questa, vediamo un po' composizione quantitativa per due giornaliera raccomandata a due capsule di pepe nero cromo piccolinato due capsule favoriscono di peperi forniscono di peperi, ok assumere due capsule al giorno prima della colazione e una prima del pranzo con un bicchiere d'acqua non superare la dorso giornaliera raccomandata, gli integratori alimentari non devono essere utilizzati come sostituti di una dieta variata ed equilibrata uso non raccomandato per donne che lattano o gravidanza e bambini in caso di patologie consultare un medico prima dell'uso ovviamente se si è allergici al pepe nero ovviamente non se ne deve fare uso consumare con cautela perché il pepe nero favorisce l'alzamento della pressione quindi comunque da utilizzare veramente con molto con molta cautela prima di prendere tutto questo io comunque vado dal mio medico e gliele faccio vedere altre capsule di Garsinia Cambogia invece sono in questa confezione un po' più grande come vedete bellissima 200 capsule 250 mg invece queste qua sono 100 capsule questa qua Garsinia Cambogia 60% di ac mentre queste qua sono il 60% HCA credo che sia la stessa cosa perché cambia soltanto Nultem credo che questa sia un'altra marca consiglio di utilizzo da 2 a 3 capsule al giorno con un bicchiere d'acqua abbondante durante i pasti e nell'ambito di un'alimentazione bilanciata tenere fuori dalla portata dei bambini non superare la dose giornaliera apriamo anche queste per vedere un po' come sono fatte adesso vedrete io come sono ecco no no anzi sono sono facili da aprire se ci riesco io ci riuscite anche voi perché io sono un pochettino impedita queste sono capsule proprio così anche queste fantastico mentre l'ultima l'ultima novità che mi è arrivata sono due mesi di cromo cromo forcioli duo questo qua ha anche un alimento o un integratore alimentare scusatemi due mesi 30 e 30 quindi alla durata di due mesi offerta regalo due per uno questi prodotti sono praticamente cromo cromo forci forcoili supplemento alimentare completo vediamo un po' questo è cromo il cromo contribuisce al metabolismo normale dei macronutrienti e mantiene i livelli normali di glucosio nel sangue quindi questo è veramente ottimo io ho le porte aperte le finestre aperte giusto in questo momento si è fermato un camion con un motore acceso all'ennesima potenza il camion non ne vuole sapere di andare via però sembra che il suo motore si senta un po' meno e quindi io termino parlandogli di questo cromo scusatemi per l'ombra non sono bravissima comunque questo cromo lo trovo in si trova in due confezioni una in regalo eccola qua vedete qua due per uno praticamente è composto da 30 compresse guardate un po' queste sono proprio compresse eccole qua se ne prende una al giorno per cui dura una confezione dura un mese due confezioni ovviamente hanno una durata di due mesi e servono per ridurre quindi il glucosio nel sangue questa è una cosa veramente ottima anche per chi per chi soffre di glicemia alta tipo mio padre che soffre di glicemia voglio parlare con il mio medico farmi vedere questo prodotto e chiedermi comunque se è possibile integrarlo alla sua alimentazione magari può essergli utile se così non fosse lo prendo io perché io in questo momento sono veramente accanita sto prendendo comunque già degli integratori alimentari che mi aiutano a perdere peso già sono alla terza settimana del mio percorso alimentare e devo dire che già ho perso due chiletti due chiletti e qualcosa ecco mi ritengo abbastanza abbastanza contenta però la Garcinia Cambogia sinceramente avevo tantissimo bisogno di prenderla volevo acquistarla quindi grazie mille all'azienda per avermi inviato le compresse tra l'altro mi ha inviato anche questa qua grande che è veramente fantastica vi lascio giù nel box informazioni se ho la possibilità di di recuperare i link su Amazon di tutti questi prodotti se così non fosse insomma cercherò comunque di trovare le alternative comunque la Garcinia Cambogia al 100% naturale non è difficile trovarla però io vi sto parlando di questi prodotti quindi mi fa piacere comunque condividervi questi i link di questi prodotti nello specifico cosa dire ragazzi io ringrazio tantissimo questa azienda per avermi mandato questi prodotti che sicuramente sicuramente proverò e mi farò sapere nel tempo se anche loro hanno contribuito ad aiutarmi a perdere peso ovviamente fra parentesi sto seguendo un'alimentazione sana e controllata per cui io già sto facendo il mio percorso e non c'è niente di meglio nell'usare questi integratori durante un percorso alimentare sano quindi ragazzi grazie ancora per essere stati qua un bacio a tutti spero che questo video vi sia stato utile e che vi interessi un grande bacio e ci vediamo alla prossima ciao a tutti da mari ciao ciao ciao